Sono felice, ero felice nel campo, ero felice di giocare con questa squadra, i tifosi sono stati fantastici, ci hanno sostenuto fino alla fine e abbiamo regalato loro una vittoria importante. È il nostro obiettivo fino alla fine del campionato e dobbiamo cercare di rientrare nelle prime quattro, cercare di andare avanti il più possibile in Champions e cercare di fare bene anche nella Coppa del Re. Adesso archiviamo questa vittoria e pronti per martedì che abbiamo un'altra battaglia. Mi sono trovato benissimo ma non è stato difficile grazie anche ai compagni che mi hanno preso a ben volere, mi hanno aiutato molto in questi primi due giorni, mi trovo molto bene con loro e speriamo di fare tante cose belle. È stato molto bello, ho parlato anche con Amedeo quando sono arrivato, mi ha dato alcuni consigli su Valencia e su come i tifosi vogliono l'impatto dei loro giocatori. Cerco solo di dare il meglio per loro e per i miei compagni. Quando si vince è sempre bello, i tifosi sono stati fantastici, ci hanno sostenuto fino alla fine e abbiamo regalato loro una vittoria importante per loro, per noi e per tutto l'ambiente. Grazie a tutti.